Oggi ti voglio dare un consiglio e il consiglio è mantieni le tue dipendenze nel senso di curale, le tue dipendenze sono quello che sei ed è importante mantenere la tua dipendenza dal caffè, dalle sigarette, dall'alcol dal lavoro, dall'allenamento, dai pensieri negativi le dipendenze dall'incazzarti, la dipendenza dallo zucchero tutte queste dipendenze sono quello che sei e quindi le dovresti mantenere però il mio consiglio è anche quello di rendertene conto renditi conto che sei dipendente dal caffè, renditi conto che sei dipendente dallo zucchero e poi va bene così, renditi conto che sei dipendente dalle sigarette e non che ti piace fumare renditene conto e prova magari un mese a stare senza caffè un mese a stare senza zucchero, un mese a stare senza qualcosa di cui senti il bisogno per renderti conto che queste cose non sono quello che sei ma sono solo dipendenze See you